E' stato arrestato dalla polizia il responsabile della rapina avvenuta due giorni fa ai danni di una tabaccheria di via Regina Margherita a Barletta. Arriva così, seppure parziale, una prima risposta alla recrudescenza criminale che sta vivendo la città negli ultimi giorni e di fronte alla quale ieri il sindaco Pasquale Cascella è voluto intervenire pubblicamente assicurando il massimo sforzo da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine per un ripristino della legalità sul territorio. Se al momento rimangono ancora ignuti gli autori dell'incendio appiccato ad un'autoscuola di via Milazzo e delle rapine avvenute nell'ultime 72 ore ai danni della Banca Popolare di Milano di via Pier delle Vigne e di una gioielleria ricorso Vittorio Emanuele, ieri la polizia è riuscita a rintracciare il malvivente che giovedì pomeriggio, armato di taglierino, aveva fatto irruzione all'interno della tabaccheria denominata la Galleria del Fumatore in via Regina Margherita, portando via il denaro contenuto in due cassetti del bancone. Si tratta del pregiudicato Francesco Gorgoglione, 23 anni, identificato dal personale della polizia grazie alle immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno ritrovato nella sua abitazione gli stessi indumenti utilizzati durante la rapina. Gorgoglione, durante il trasporto in commissariato, avrebbe anche tentato la fuga ma senza successo venendo prontamente bloccato dagli agenti che l'accompagnavano. A quel punto il giovane malvivente avrebbe vuotato il sacco e ha messo le proprie responsabilità in ordine alla rapina venendo trasportato dopo le formalità di rito presso la casa circondariale di Trani.